Walter Nudo è tornato sul suo addio alla tv svelando dolorosi retroscena sui suoi recenti trascorsi. Nonostante tutto è ancora convinto di non voler tornare a fare televisione. Diventato famoso come attore, Walter Nudo è poi diventato un vero e proprio asso dei reality. Fu lui a vincere la prima edizione dell'Isola dei Famosi e trionfò anche al grande fratello VIP. Nonostante tutti questi numerosi successi che lo hanno riportato sotto i riflettori e a conquistare ospitate, serate e copertine di settimanali, alla fine l'attore si è defilato dal mondo dello spettacolo. Lo annunciò ufficialmente due anni fa. Ma oggi è tornato a parlare dell'argomento nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, confermando la sua decisione senza alcun ripensamento. Allo stesso tempo è comunque presentissimo sui social dove conta una platea di quasi 250.000 persone che lo seguono. Qui, pubblica video di Life Coaching. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Nudo ha dichiarato di aver dovuto affrontare due ictus e un'operazione al cuore nel 2018. Ho visto la morte negli occhi, ha dichiarato, confessando di aver cominciato a porsi tante domande sulla sua vita e su quanto avesse fatto fino ad allora. Le cose materiali? Io le ho avute tutte. Soldi. Auto. Successo. Copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Il mio è un vero addio alla tv sì. Dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Queste le parole dell'attore al Corriere della Sera. Dopo queste considerazioni è giunto quindi a stilare una nuova classifica di priorità in cui la televisione occupa un posto decisamente basso in classifica.